ciao io sono luigi di clarin tux un tux per sempre benvenuti in questo video oggi è l'8 gennaio 2024 e ci sono delle novità per quanto riguarda il mio painful pro che finora era rimasto un po chiuso nel suo cassetto le novità riguardano le chiamate infatti sono riuscito per la prima volta ad avere una qualità delle chiamate accettabile attenzione non buona sicuramente non eccellente ma accettabile la cosa mi fa ben sperare certo non non mi aspetto che tutto venga risolto nelle prossime settimane nelle prossime mesi ci vorrà più tempo ma il fatto che finalmente riesco a telefonare ea farmi sentire dall'altro mi fa almeno sperare un po allora vi mostro subito che le chiamate funzionano adesso chiamo un mio contatto nascondo ovviamente intanto la password che sto inserendo e poi il numero telefonico a cui sto chiamando ok chiamo aspettiamo ciao mi senti si io ti sento un po piano speriamo che si sente anche qua comunque saluta youtube ok allora mi confermi che mi senti bene dico è accettabile la qualità ok sicuramente non perfetta ma accettabile va bene ti ringrazio ciao ok quindi anche il mio contatto che conferma che è accettabile io ho fatto delle prove per conto mio registrandomi un messaggio sulla sulla mailbox sulla segreteria telefonica per poter controllare di persona come effettivamente la qualità audio queste novità arrivano direttamente dal lavoro di meggi per chi non lo sapesse meggi è uno sviluppatore kernel molto attivo nel mondo del python quindi per farlo fu per far funzionare le chiamate al meglio sono andato per la via più breve ovvero quella di installare arch linux arm in versione foch come vedete arch linux perché abbiamo i che nel meggi adesso magari apro un termine un emulatore di terminale vi faccio vedere su che che nel siamo il 6.6.6 quando c'è scritto meggi ma ve l'ho detto io ripeto che l'otto gennaio 2024 e questa è una arch linux arch linux completamente aggiornata va bene diamo uno sguardo alle applicazioni e pre installate e anche a quelle che installate io come vedete ce ne sono molte meno rispetto ad esempio a mangiaro se installate mangiare ossia che sia in versione foch o in versione plasma mobile avrete un po più di app pre installate comunque apriamo l'app per i messaggi per gli sms questi chatti in realtà c'è poco da dire gli sms hanno sempre funzionato io ho avuto dei problemi in quanto l'app dei messaggi di android oggigiorno supporta anche le chat rcs quindi prima di mettere la vostra sim su un python dovrete disabilitare da android queste chat rcs altrimenti la gente come continuerà a mandarvi questi queste chat rcs e voi non le ricevete va bene a dimenticavo chatti supporta anche altri protocolli di sicuro il protocollo xmpp quindi potreste scrivere dei messaggi anche xmpp per quanto mi riguarda ho installato un'altra app apposta per la messaggistica xmpp in quanto è sicuramente più completa vabbè poi abbiamo un app dei contatti adesso io qua non ho salvato alcun contatto quindi c'è poco da vedere abbiamo firefox non ve lo mostro credo di avervelo mostrato nel precedente video sul python poi abbiamo il calendario come vedete anche il python fro il python fro non è velocissimo beh stiamo parlando comunque di un sistema operativo linux che deriva dal desktop e non è stato ancora ottimizzato al meglio per dispositivi mobile ma va bene non è questo il problema poi abbiamo eye of gnome questo è per vedere le foto le immagini g edit l'editore di testo che sicuramente conoscerete poi installato un solitario isolate riot esattamente quello che vediamo sul desktop e funziona abbastanza bene la calcolatrice e va benissimo anche questa dino è appunto l'applicazione il client xmpp funziona bene come funziona sul desktop è una di quelle app che si prestano bene anche al mobile come vedete qua avevo scritto anche qualcosa scriviamo ancora ecco adesso ho ricevuto sul telefono da cui sto registrando va benissimo posso effettuare anche delle chiamate non video perché la camera ancora ha problemi torneremo sulla camera tra poco poi ho installato un'applicazione per le sottoscrizioni rss per i feeds rss e quindi qua posso andare a sbirciare le notizie sul sito dell'ansa ad esempio su repubblica eccetera benissimo anche quest'app si comporta molto bene sul mobile giri o come come cavolo si chiama non lo so è per le email e anche questa va abbastanza bene impostazioni va bene lollipop per la musica mappe non so se si possa utilizzare per la navigazione gps ma sicuramente possiamo andare a visualizzare le mappe per qualunque città megapixel è l'applicazione della fotocamera che ve l'ho mostrata nel video precedente siamo ancora a quei livelli di qualità abbiamo delle immagini verdognole quindi non ve la mostrerò in questo video tra l'altro sulla versione attuale di arch linux nemmeno si avvia spero che questo problema sia risolto nei prossimi giorni ma come in ogni caso la qualità è ancora quella l'applicazione per visualizzare il meteo si comporta benissimo va bene orologi qua possiamo andare a mettere alla sveglia ovviamente abbiamo anche la possibilità di avviare un cronometro il timer eccetera va bene portfolio e il file manager molto semplice molto minimale non ho nulla su questo smartphone quindi non ho nulla da mostrarvi registratore magari proviamo a registrare qualcosa ecco registra ciao tanti saluti da clarintux salviamo vediamo un po' ciao tanti saluti da clarintux ok bene si comporta come dovrebbe il terminale già ve l'ho mostrato poi ci sono altre tweaks queste sono altre impostazioni per force il monitor di sistema e va bene basta così in realtà posso anche mostrare tutte le app anche quelle non compatibili con il mobile ma non ha senso sono delle app che ho installato per utilizzarle in realtà tramite connessione ssh perché si ripeto questo è un dispositivo che si può utilizzare come un mini computer tutto quello che fate con un sistema operativo gnolinux potete farlo anche con questo dispositivo quindi ci potete fare anche un server tutto quello che volete e il problema è utilizzarlo come telefono e quindi sono molto contento che la qualità delle chiamate sia migliorata speriamo che migliori anche il resto e che migliori anche la durata della batteria adesso quando monterò il video vedrò che percentuale di batteria avevamo all'inizio attualmente siamo al 51% penso che se ne sia andata abbondantemente la batteria va bene questo è un po' tutto vi darò novità quando ce ne saranno di nuovo io vi saluto ciao da Clarintux grazie a tutti